Un taglio del nastro Un taglio del nastro che ha regalato al Valdarno Fiorentino la pista di atletica più moderna della zona ma anche uno stadio rinnovato. A Reggello questo sabato l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo dove si pratica atletica e calcio è stato il completamento di un percorso iniziato nel 2017 quando con un progetto prima e 600 mila euro poi arrivati da finanziamenti coni si erano dati nel comune guidato a quel tempo da Cristiano Benucci l'obiettivo di mettere mano ad un'area dove vertono centinaia di persone. Rifatto il manto erboso, l'irrigazione, nuovo accesso agli spogliatoi e appunto una nuova pista costruita con materiale consono ad ospitare gare professionistiche. Dopo il taglio del nastro poi una partita inaugurale fra la società calcistica e il gruppo Podisti insieme al sindaco Giunti e all'amministrazione comunale che con magliette e scarpe da calcio ha presieduto attivamente a questo nuovo inizio per lo sport reggellese. Una pista di atletica leggera regolamentare che dà la possibilità di ampliare l'offerta formativa sportiva anche all'atletica leggera a coloro che fino a questo giorno dovevano spostarsi da Reggello ma al tempo stesso assume un valore importante perché possiamo qui a Reggello.